Buongiorno, benvenuto a questo Azzincontra. Oggi parleremo di energia, ma parleremo contemporaneamente anche di futuro e se si parla di energia e di futuro bisogna parlare anche di tecnologia e di sostenibilità. Per farlo abbiamo invitato un ospite che è Francesca Zarri, un ingegnere che dirige il settore tecnologia, ricerca e sviluppo e digitale di Eni. Insomma la martellerò su tante novità che possono interessarci e che interesseranno le nostre vite e quindi vi faccio subito una domanda generica. La domanda generica è come immagina la nostra vita tra vent'anni, cioè nel 2042-43? Non è facilissimo perché in questo momento storico ci sono tanti stravolgimenti geopolitici, però quello che sicuramente immagino è che al 2043 ci sarà tanta energia disponibile a basso costo, sostenibile e che tutto questo possa permeare anche tutti quei mondi che oggi hanno difficoltà a un accesso all'energia e energia diciamo pulita. Chiaro questo è proprio nella mission di Eni, Eni persegue proprio questa just transition con un obiettivo di decarbonizzazione di net zero al 2050. Questo richiede investimenti ovviamente, cioè non è una cosa che avviene così per caso, richiede un grosso impegno e anche un impegno di investimenti. Ecco, più o meno nel mondo quanto si pensa di investire su questo fronte? Allora, Eni sicuramente sta investendo moltissimo, come Eni tutte le società del nostro settore. C'è un numero che è quello relativo agli investimenti in energie rinnovabili del 2021, è un numero molto importante, sono 300 miliardi proprio di investimenti nel settore rinnovabili, solare, wind, geotermico, idroelettrico a livello mondiale. È chiaro che questi investimenti servono proprio per accompagnare questa transizione, questo shift verso un mondo di energie decarbonizzate, dove cos'è importante? È importante che questo avvenga attraverso l'applicazione tecnologica, e io dico anche l'innovazione, perché è spesso innovazione che porta a una nuova forma di energia, a una nuova possibilità di utilizzare energie, è spesso l'innovazione, ed è un'innovazione che da questo punto di vista è neutrale. Cioè, qui il tema vero è che il portafoglio di decarbonizzazione che accompagna la transizione è un portafoglio ampio di tecnologie varie, ed è un portafoglio dove c'è un approccio, e in particolare questo è l'approccio di Eni, un approccio neutrale alla tecnologia che ci accompagna verso la decarbonizzazione. Ecco, io sono convinto che tra vent'anni la nostra vita proprio sarà cambiata, alcune, diciamo, anche cose quotidiane che facciamo saranno cambiate proprio dall'energia, e invece molto, grandi aspetti che interessano la nostra vita non ci accorgeremo, ma miglioreranno l'aspetto sia di sostenibilità ambientale che di sostenibilità sociale. Per fare questo sicuramente c'è bisogno di un grande impegno, di investimenti. Noi oggi come Eni abbiamo già la possibilità di produrre biocarburanti e di anche commercializzarli in purezza. Eni nel 2014 ha convertito la prima raffineria in bioraffineria e produce biocarburanti da una filiera non in competizione con la filiera alimentare e da waste, quindi da residui, per esempio, dai cook and oil, dagli oli esausti, dagli oli di cucina esausti. Quindi il tema dei biocarburanti è un grande tema. E questi possono essere utilizzati soprattutto in settori che sono difficili da decarbonizzare, dove l'elettricità funziona un po' meno. Quali sono questi situazioni? Allora, diciamo che i biocarburanti trovano il loro utilizzo naturale nel mondo dei trasporti, dei trasporti pesanti. Ecco, questa domanda mi apre tutta la tematica della carbon capture, quindi della cattura della CO2, che è, diciamo, la modalità anch'essa pronta già oggi, la cattura della CO2 e il suo stoccaggio in giacimenti esausti, è la modalità pronta già oggi per tutti quei settori industriali che vengono detti hard to abate, cioè di difficile decarbonizzazione. Cito le acciaierie, per esempio, i cementifici, dove l'utilizzo, la CO2 entra proprio nei processi chimici che generano il prodotto. Quindi ecco, questi sono settori dove già oggi è possibile applicare tecnologie note di carbon capture e di stoccaggio. Significa che praticamente la CO2 è impossibile eliminarla in questi settori, bisogna catturarla e la si può trasportare sotto il mare? Allora, diciamo che la si trasporta e la si stocca in giacimenti esausti e nel caso di Eni sono giacimenti deplettati che già conosciamo perché sono i giacimenti da cui abbiamo prodotto in decine d'anni, diciamo, i nostri idrocarburi, gas, in particolare, nel, diciamo, gas, sono giacimenti che nascono già per contenere fluidi, già per contenere in sicurezza idrocarburi. In più, noi abbiamo tutte le nostre competenze in grado di assicurare, diciamo, lo stoccaggio della CO2 nella migliore delle maniere e monitorare negli anni e simulare il comportamento dei giacimenti. Allora, abbiamo capito che, diciamo, ci sono i biocarburanti che sono una realtà già reale, tant'è vero che ci sono già, avete già delle pompe di distribuzione, se non sbaglio, no? Sì, da fine dello scorso anno in Italia esiste un certo numero di pompe delle nostre stazioni di servizio che vendono il nostro biocarburante già in purezza. Quindi questa è già una realtà, abbiamo capito che un'altra delle novità in arrivo, diciamo, è quella dello stoccaggio, no? Che è una cosa che è in fieri in questo, proprio se ne parla molto in questi giorni e invece se si guarda al futuro lontano si parla un po' di fusione nucleare, no? O no? Allora, futuro non così lontano, anche se ci sono, diciamo, sicuramente difficoltà tecnologiche da superare, però il tema della fusione è un tema, diciamo, molto vivo e molto da noi attenzionato. ENI è stata la prima tra le società energetiche a occuparsi di fusione e già, diciamo, a fine, diciamo, negli anni, intorno al 2010, con i primi rapporti con l'MIT. Poi nel 2018 ENI ha contribuito a, diciamo, a uno spin-off dell'MIT di Boston, CFS, che oggi... Ha creato una società in comune. Sì, abbiamo creato una società in comune, della quale ENI è lead investor, quindi principale investitore, e che oggi sta realizzando, diciamo, la prima test facility, quindi la prima, diciamo, il primo impianto test, con l'obiettivo di arrivare ad avere una quantità di energia netta maggiore di 1, per poi arrivare alla realizzazione di un primo impianto industriale, diciamo, all'inizio della prossima decade. Quindi vicinissimo. Molto vicinissimo. Allora, se parliamo di fusione nucleare, spieghiamolo un po', no? È una cosa completamente diversa, invece, dalla scissione, che è la tecnologia che ora utilizziamo, si parla anche di una tecnologia più evoluta sulla quale si sta investendo a breve, che riguarda sempre la scissione. La fusione è un po' come, diciamo, un po' il meccanismo che usano le stelle, o no? Assolutamente sì, infatti ci piace chiamare la fusione l'energia che viene dalle stelle. Allora, diciamo, nelle stelle la fusione è la fusione di atomi, tra di loro di atomi, è un processo esattamente opposto rispetto a quello della fissione, e nelle stelle avviene grazie alla fortissima gravità presente nelle stelle. Ecco, sulla Terra, per poter favorire questo fenomeno, è necessario avere condizioni particolari. L'energia della fusione è un'energia sostanzialmente virtualmente infinita, senza emissioni di CO2 e intrinsecamente sicura. Come avviene? Avviene attraverso la fusione di due isotomi di idrogeno, deuterio e trizio. Dove si trovano? Beh, allora, il deuterio si trova nell'acqua di mare, è un isotopo dell'idrogeno comune, il trizio viene prodotto all'interno del reattore, grazie alla presenza di questo campio magnetico molto forte, il plasma, che di fatto è un fluido ionizzato ad altissima temperatura, favorisce la fusione tra proprio gli atomi di idrogeno. Allora, io devo dire che quando ho visto la presentazione che è stata fatta negli Stati Uniti, mi aveva intrigato l'aspetto anche geopolitico di questa realtà, la possibilità di creare energia dall'acqua di mare di fatto, e questo vorrebbe dire poter mettere un po' ovunque la capacità di produzione di energia, quindi togliere il predominio su alcuni settori che hanno alcuni paesi, questo immaginiamo che cosa può voler dire a livello geopolitico, anche perché se ho ben capito, non è che stiamo parlando di strutture gigantesche, ecco, che dimensioni ha questa? Allora, diciamo che l'impianto di test che stiamo realizzando vicino a Boston è un impianto, diciamo, piccolo, è un impianto che ha un diametro di 4 metri e un'altezza di 5 metri, l'impianto industriale sarà, diciamo, ha una dimensione assolutamente più o meno quella di una power station, di una power station così come le conosciamo oggi. E com'è possibile fare, diciamo, in uno spazio così piccolo? È possibile perché, diciamo, è legato a una scoperta scientifica di fine anni 90, che sono questi materiali particolari, questi HTS, questi High Temperature Superconductor, che hanno consentito di ridurre le dimensioni degli impianti, hanno consentito di ridurre e avere un concetto più modularizzato degli impianti di fusione. Quindi questi High Temperature Superconductor, che sono, diciamo, un materiale più avanzato rispetto ai superconduttori che sono utilizzati correntemente, diciamo, nell'ingegneria nota, ad oggi nota della fusione. Ecco, io ce l'ho qui in mano, devo dire che ci siamo fatti una chiacchierata prima, e quindi dalla borsetta è uscito fuori questo materiale, questo materiale, questo è un materiale che consente di trasmettere, diciamo, energia anche a temperature veramente molto, 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 molto basse. Mi diceva quanto? Allora, questi sono a meno 253 gradi Kelvin, quindi High Temperature rispetto ai Low Temperature, che sono a meno 273 gradi Kelvin, che sono, diciamo, i superconduttori fino ad oggi utilizzati. Questi sono l'innovazione, e quindi High Temperature sono 20 gradi in più, ma sempre criogenici, quindi sempre a bassissime temperature. Questo significa che forse l'energia del futuro passerà attraverso queste striscette così, questo mi fa veramente un grande effetto. Insomma, quindi, poi mi ha detto che non ci vorrà così tanto tempo, se ho ben capito. Allora, diciamo che... È chiaro che si sta nel futuro, no? Assolutamente, si sta nel futuro. E soprattutto quello che c'è da dire è che è proprio cambiata la modalità di approccio, no? Cioè, è una modalità di approccio industriale, dove prevale, diciamo, all'aspetto accademico o anche quello, diciamo, governativo, prevale una visione, diciamo, più imprenditoriale, industriale, in cui, diciamo, tutto viene focalizzato proprio a una volontà realizzativa, più che di studio. E quindi già soltanto questo, diciamo, questo spirito ha cambiato moltissimo la storia della fusione negli ultimi due anni. Negli ultimi due anni sono fiorite iniziative private, più o meno in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, alla Francia, alla Germania, alla Cina, iniziative private proprio per accelerare e l'industrializzazione di diverse soluzioni impiantistiche per realizzare la fusione. Ho l'impressione, però, che proprio l'integrazione, diciamo, tra la parte di ricerca, di studio che passa attraverso le università e la parte, invece, le risorse che sono in grado di mettere, invece, una grande azienda privata, è questo mix che è quello che consentirà di fare progresso, no? Assolutamente, noi crediamo moltissimo a questo e, in particolare, ENI e la mia direzione lavorano proprio in questo, credendoci fortissimamente. Noi, come grande industria, abbiamo una tradizione di ricerca all'interno, organica, molto forte. Abbiamo sette centri di ricerca, abbiamo circa 8 mila brevetti, abbiamo un migliaio di ricercatori e, comunque, di persone che lavorano sull'innovazione. Accanto a questo, la nostra, diciamo, la nostra vocazione è quella di parlare con le università, parlare col mondo della ricerca istituzionale, quindi abbiamo rapporti con il Centro Nazionale Ricerca, quindi il CNR, con Enea, con il CNR 70, abbiamo rapporti con circa 70 università. E poi, ovviamente, per esempio, con il Centro Nazionale Ricerca, abbiamo quattro laboratori congiunti, dove i nostri ricercatori, i loro ricercatori, lavorano insieme e anche con alcune università italiane. Stiamo proprio realizzando, abbiamo realizzato nel recente passato e stiamo realizzando centri congiunti proprio sull'energia del futuro, proprio su tematiche di decarbonizzazione. Le energie sul futuro passano anche attraverso l'utilizzo di materiali rari, difficili da trovare, in particolare quando parliamo di rinnovabili. Sappiamo che questo è stato, per esempio, un problema durante l'inizio della pandemia, perché gran parte di queste terre rare arrivano dalla Cina, si è fermato tutto e quindi era difficile realizzare. Ecco, su questo, qual è la strada che si può seguire? Allora, diciamo che Eni ha una grande, allora, sicuramente questo è un tema di nostro interesse che presidiamo. Ovviamente, siamo ben coscienti che le catene di supply relative alle terre rare sono catene di supply molto, diciamo, focalizzate e dipendenti dalla geopolitica. Quindi, una società come Eni non può, diciamo, rinunciare o rischiare, diciamo, di essere colta all'interno di un sistema che in qualche maniera non ci dia la garanzia di funzionare. Quindi, quello che stiamo facendo è lavorare moltissimo sulla tematica del riciclo. Quindi, sia studiare tecnologie che possano andare a recuperare dai sistemi, diciamo, sia dalla parte batterie sia dalla parte proprio macchine, impianti, delle energie rinnovabili, le terre rare. Quindi, lavoriamo su tecnologie per il riciclo che oggi sono tecnologie anch'esse di innovazione tecnologica, cioè, non sono tecnologie come dire, well established. Quindi, c'è tutto un lavoro di trasferimento tecnologico e di studio in corso. E poi, l'altra cosa che stiamo facendo, l'altra grande direttrice, è quella di studiare alternative all'utilizzo delle terre rare. Quindi, stiamo studiando sicuramente batterie con caratteristiche diverse e che utilizzano materiali diversi, più poveri, più comuni, rispetto a, per esempio, batteria allo stato solido o batteria a flusso. quindi, questo è un po', diciamo, l'altro pilastro sul cui ci stiamo muovendo, più che andare a lavorare sulle filiere del valore, diciamo, delle terre rare a partire, diciamo, dai paesi dove le terre rare vengono prodotte, che sappiamo essere riuscito a dire che praticamente i pannelli solari che vengono dismessi, vengono rilavorati da voi. Esatto. Allora, diciamo che sono tecnologie, anche se sono tutte tecnologie su cui stiamo lavorando e che stiamo studiando, cioè i pannelli solari, per esempio, il riciclo del silicio cristallino dei pannelli solari, la loro, come dire, la loro, sì, anche tutto il trattamento per poter estrarre silicio cristallino e materiali, e materiali, e materiali critici, pannelli solari, pale solari, pale eoliche e per esempio anche le batterie, questo è un altro grande tema, quello del ricondizionamento barra riciclo delle batterie usate. Anche perché oggettivamente altrimenti l'ambiente ce lo dimentichiamo, se tutte le nostre macchine elettriche finiscono... Oggi nella nostra chiacchierata siamo partiti proprio parlando di una transizione che deve essere equa, che deve essere sostenibile. Ecco, tutto quello che noi stiamo facendo è proprio perché questo principio venga garantito, quindi deve essere equa da un punto di vista sociale, ma deve essere anche sostenibile proprio da un punto di vista dei materiali e della direzione nella quale stiamo andando. E questo secondo me è uno degli asset che una società deve avere perché è proprio la capacità di saper rispondere diciamo all'ambiente, di saper rispondere alla società che ti consente di poter progredire e di mantenere competitività anche rispetto agli altri, perché c'è una corsa molto forte a un riequilibrio rispetto a questi meccanismi e quindi insomma ecco questo è importantissimo. Le volevo chiedere riciclo solo questo di materiali critici oppure anche la plastica? Beh, Eni come sapete Eni al suo interno ha anche Versalis che è la nostra società che si occupa di petrolchimica e Versalis ha sviluppato tecnologie per il riciclo di quelle plastiche che non sono diciamo riciclabili attraverso i sistemi noti i sistemi diciamo più consolidati in particolare tutta quella frazione di plastica che si chiama Plasmix che è proprio non riciclabile con tecnologie diciamo consolidate ecco Versalis ha sviluppato una tecnologia in grado di riciclare chimicamente quelle plastiche riportandole di fatto a materiale vergine e si chiama UPP proprio perché la tecnologia si chiama UPP proprio perché indica un riciclo completo che permette di riportare la plastica diciamo altrimenti non riciclabile a materiale vergine che viene reimmesso nel ciclo di produzione che dà luogo poi dopo ha prodotti assolutamente utilizzabili si si assolutamente uguali al prodotto che arriva da una supply chain diciamo di produzione primaria esattamente quindi questo sicuramente può essere interessante abbiamo parlato di energia devo dire siamo stati anche velocissimi c'è un diciamo un'altra rivoluzione che è in corso quando si parla di transizione si parla di due tipi di transizione quella energetica e l'altra è quella digitale allora come Eni ovviamente siamo attenti all'una e siamo attenti all'altra anche perché la transizione digitale diventa abilitante anche per la transizione energetica nessuno dei processi di cui abbiamo parlato è privo di una sua digitalizzazione volta a un efficientamento volta anche a tutto un tema legato all'utilizzo dei dati qui veniamo a un altro grande tema Eni è una società sicuramente data driven con una grande tradizione di produzione dati e di loro utilizzo mi piace anche citare la nostra storia nel supercalcolo noi diciamo da sempre utilizziamo i supercalcolatori per le simulazioni di ciò che avviene nel subsurface cioè al di sotto della superficie del terreno dove storicamente abbiamo i nostri giacimenti e questa vocazione poi ci ha portato a sviluppare a costruire quello che si chiama il Green Data Center realizzato nel 2013 che oggi ospita una delle macchine di supercalcolo più potenti al mondo nel mondo industriale perché poi ci sono macchine più potenti diciamo nel mondo diciamo quello istituzionale militare istituzionale nel mondo industriale la nostra è una delle macchine più potenti si trova vicino a Pavia e diciamo è quello che si chiama il Green Data Center lì abbiamo l'HPC4 l'HPC6 iPerformance Computer 4 iPerformance Computer 5 il prossimo sarà iPerformance Computer 6 non abbiamo tanta fantasia sono sono abbiamo però tante grandi capacità anche di costruire algoritmi che possono poi essere possono essere poi lanciati su queste macchine e sono quegli algoritmi che ci permettono per esempio di di simulare e di prevedere l'andalmento per esempio abbiamo parlato prima dello stoccaggio della CO2 quindi l'andamento e l'andamento e la simulazione del comportamento della CO2 nei giacimenti dipletati per esempio ma no torniamo prima al computer perché insomma ho capito che non è come quello che ho io sulla scrivania al lavoro è in grado di elaborare quanti dati allora diciamo 70 petaflop sono l'equivalente di 70 milioni di miliardi di operazioni al secondo ecco diciamo più o meno come meglio quando quando la sera prima di andare a dormire chiaramente questo ci abilita ci abilita la nostra capacità di diciamo generare dati di come dire gestire dati la nostra capacità di applicare algoritmi e di utilizzarli su diciamo su high performance computing quindi di utilizzare criteri di su metodi paradimi di supercalcolo poi ci abilita a generare e a poter gestire anche la grande complessità per esempio di un'intelligenza artificiale applicata alle energie del futuro ecco perché l'intelligenza artificiale è già entrata o sta entrando nell'energia? allora potete immaginarvi che in una società come Eni diciamo metodi metodi di licenza artificiale di intelligenza artificiale sono ormai applicati da anni quindi nei nostri processi produttivi per ottimizzare anche processi di lavoro di lavoro anche desk quindi noi già utilizziamo l'intelligenza artificiale in maniera estensiva all'interno della nostra azienda quello che noi vediamo è una grande potenzialità di applicazione dell'intelligenza artificiale per i sistemi dell'energia del futuro ovviamente tutta la tematica di fusione che abbiamo toccato prima trarrà un grande vantaggio da applicazioni sia di supercalcolo sia di intelligenza artificiale sia quella classica di machine learning ma anche noi stiamo anche già guardando applicazioni di intelligenza artificiale generativa quindi questo è un grande filone l'altro filone è proprio quello che riguarda tutte le energie e i sistemi energetici del futuro complessi pensiamo alle reti con una generazione diffusa di energia da più fonti energetiche questo significa gestire meglio il mix di produzione che uno ha questo significa sicuramente avere una grande capacità sia previsionale perché poi questo si fa anche andando a incrociare i dati di forecast meteorologico con i dati di bilanciamento delle reti ma anche poi c'è tutto il tema della previsione dei consumi e delle abitudini degli utilizzatori e quindi diciamo incrocerà offerte e domande in maniera intelligente per capire dove serve e che cosa serve e come bilanciare la rete anche perché se ben ricordo la produzione l'energia si può stoccare fino a un certo punto e bisogna comunque utilizzarla per esempio alcuni tipi di rinnovabili hanno proprio questa necessità e quindi l'utilizzo e la gestione migliore consente di utilizzarla a fondo assolutamente e consente di utilizzarla al fondo è un po' un paradigma che è cambiato siamo in un mondo stiamo passando da un mondo basato su fonti e combustibili a un mondo basato su macchine e materiali e su un sistema interconnesso ecco questo questo cambio di paradigma poi si porta dietro la necessità proprio di fare quello che stavamo discutendo adesso cioè di avere poi un sistema che interconnette tutto e che è in grado di bilanciare ed è in grado di fare il miglior utilizzo di fatto il mondo chiamiamo il mondo da cui veniamo è un mondo che fonte combustibile e uso e richiesta cioè sono i paradigmi il nuovo mondo è macchina materiale e disponibilità di energia spesso legata alle condizioni atmosferiche quindi capiamo che veniamo da un sistema totalmente programmabile a un sistema dove la programmazione in qualche maniera è vincolata anche da fattori esterni con un certo grado di imprevedibilità quindi è chiaro che un sistema così complesso dove insieme ci sono diverse fonti energetiche fonti per la generazione di elettricità che vanno appunto dal pannello solare al vento alla centrale a fusione o piuttosto in qualche paese al mondo anche centrali diciamo di quarta generazione ecco è un mix con anche la presenza di batterie e di stoccaggi a breve a lunga e a media durata è chiaro che questo mix interconnesso necessita di sistemi intelligenti e sofisticati per il bilanciamento e quindi abbiamo capito anche che praticamente l'intelligenza artificiale e diciamo la produzione questo mix di produzione terrà conto diciamo anche degli andamenti climatici che hanno ci rendono diciamo la vita un po' più complicata ce le stiamo accorgendo un po' tutti quanti quindi in realtà è così può dire un contesto che si regge tutti insieme e sul quale si sta lavorando assolutamente sì chiaro che alla base ci sono grandi competenze e la capacità di trasformare queste competenze al passo con la trasformazione tecnologica quindi c'è un grande tema anche di risorse umane di formazione e quindi torniamo al rapporto con le università torniamo ai talenti torniamo anche a un tema interno noi internamente abbiamo grandi competenze che vengono dal mondo del passato ma che possono essere e quello che stiamo facendo possono essere come dire adattate e come dire modificate per il mondo del futuro e quindi devo dire che la chiusa è perfetta nel senso che oggettivamente abbiamo capito che il mondo dell'energia sta cambiando sta cambiando velocemente più velocemente per esempio di quello che mi aspettavo sul fronte per esempio della fusione nucleare che si parlava fino a qualche tempo fa si parlava veramente di decenni ora mi sembra che i tempi si siano decisamente ridotti e tutto si innesta con innovazioni delle quali cominciamo a parlare tantissimo come l'intelligenza artificiale che per esempio sarà al centro del tavolo del G7 diciamo con la presidenza italiana il prossimo anno che nonostante l'intelligenza artificiale che diventerà sempre più necessaria perché consentirà di promuovere innovazione abbiamo bisogno di intelligenze reali che sono quelle che poi muovono tutto che è la volontà l'impegno abbiamo bisogno di risorse e quindi anche di società che si reggano strutturalmente e si autosostenibili anche economicamente e quindi è oggettivamente diciamo un cerchio che un po' si chiude insomma abbiamo fatto questa carrellata veramente lunghissima e velocissima su quello che si sta muovendo sul fronte dell'energia l'abbiamo fatto con Francesca Zari che è direttrice della tecnologia ricerca e sviluppo e digitale del gruppo ENI che io ringrazio sono molto contento di aver fatto questa chiacchierata che credo possono avere veramente tantissimi spunti su cui poter ragionare e costruire anche giornalisticamente il nostro futuro arrivederci grazie grazie a tutti Grazie a tutti.